Parcheggio bici in città, vicino alla Memo, in sicurezza. Sono novità su questo fronte? Sì, sicuramente abbiamo in mente di predisporre un piano per la sosta delle biciclette in centro storico e abbiamo voluto anticipare, visto che tra qualche giorno la Memo festeggerà sei anni di attività, abbiamo voluto festeggiare regalando tra virgolette ai ciclisti pedoni, ai ciclisti che sfruttano appunto la bicicletta per arrivare alla Memo un piccolo spazio in più per poter parcheggiare un posto comodo e sicuro dove appunto lasciare le biciclette. È un anticipo di quello che vorremmo fare in tutta la città, l'abbiamo voluto fare perché appunto la Memo compie sei anni, ma comunque vorremmo farlo discutendone con il tavolo della mobilità all'interno di questa città e credo che possa essere importante perché noi riteniamo che l'uso della bicicletta, soprattutto in centro storico, sia molto utile, agevoli la mobilità, eviti l'uso della macchina. Poi ci sono delle regole, le regole ci sono sempre state per la convivenza tra ciclisti e pedoni. Noi invitiamo sempre a usare il buonsenso, a usare il cervello che non costa molto e quindi noi vi invitiamo veramente a venire in città in bicicletta usando le precauzioni, mettendovi in sicurezza, mettendo in sicurezza anche i pedoni, ma sicuramente vi invitiamo, invitiamo tutti a usare il buonsenso perché le regole ci sono ma il buonsenso è una cosa che noi italiani abbiamo in dote e sfruttiamola bene. Ecco, il buonsenso dice parcheggiamo e lasciamo le biciclette anche negli adeguati spazi che voi state per disporre. Certamente, non lasciamo le biciclette davanti alle vetrine, non lasciamo le biciclette, se possibile, davanti ai monumenti in maniera tale che possano gustare la bellezza dei monumenti sia ai cittadini che ai turisti. Cerchiamo di farlo con un certo criterio e noi predisponderemo questo piano appunto perché si possa fare, possa essere vicino ai posti dove vogliamo che la gente vada, certamente, ma possa essere appunto comodo anche e non infastidisca la vita degli altri e l'attività in centro.